Succede fondamentalmente che chi è stato attore di una grande crescita in questi ultimi anni, i famosi BRICS, si sono sostanzialmente fermati. Il Brasile, la Russia, la Cina in primo luogo ed è chiaro che ogni piccola variazione sul mercato cinese diventa una grande variazione sul numero della produzione mondiale. Oramai la Cina ha raggiunto il 50% della produzione mondiale, si ragiona fra i 5 e i 6 miliardi di metri quadrati prodotti, quindi un leader assoluto, leader che è diventato assoluto e anche questo emerge dallo studio da parecchi anni, questo ultimamente, proprio anche nell'export. La Cina è diventato il assoluto, il primo grande esportatore di prodotto ceramico. Una lieve piccola rallentamento dell'economia cinese è evidente che ha subito una ricaduta sul valore generale mondiale e la Cina, è un dato a tutti noto, da circa un anno e mezzo sta rallentando la propria crescita. Difficile prevedere il futuro, certamente, però questo è uno dei dati salienti. Vediamo che anche il Brasile segue questo trend. Al momento le informazioni di cui disponiamo non ci consentono di dire se si stabilizzerà un andamento negativo. Noi crediamo di no al momento, non abbiamo dati che confortino una lettura di questo genere sui mercati. Abbiamo un momento di stanca, un momento di riflessione che, peraltro, in tutti questi paesi ha delle giustificazioni di scenario abbastanza differenti, quindi è difficile poter dire che le ragioni che stanno rallentando la Cina siano le stesse che stanno rallentando il Brasile. Sono ragioni diverse e contesti molto diversi. L'economia mondiale, in larga parte, è in un momento di stasi. È evidente che, come va il mondo, influenza moltissimo chi fa tecnologie e in generale fornisce l'industria mondiale. Produttori italiani hanno nell'80% del loro fatturato in esportazione. È evidente che anche la torta di cui si compongono i mercati internazionali è una torta con settori molto simili tra loro. Questo, da un lato, indica il grande equilibrio con cui è organizzata l'industria italiana, che è riuscita, in una torta che io definisco da manuale, a diluire il rischio mercati in modo ottimale. È evidente che questo ci aiuta e ci ha consentito, per esempio, nel 2015, di portare a casa un fatturato settoriale con un segno fortemente positivo, attorno al più 10%. Nel 2016 noi temiamo che in qualche maniera questo rallentamento su molti mercati importanti non potrà non riflettersi sul business delle nostre aziende. Però il mondo è sempre più grande di quello che ci costruiamo e che ci dipingiamo e a volte che i dati stessi ci rappresentano. E crediamo che la capacità di insinuarsi in ogni più piccola opportunità di mercato, in ogni paese, laddove c'è comunque un movimento, una domanda di prodotto finito per la casa, consentirà alle nostre aziende di far fronte anche a un momento di stanca, di contrazione che noi vediamo.